buonasera ragazzi riprendiamo la nostra avventura ci troviamo in una cazzo di cripta quindi vediamo come siamo messi avevo trovato un libro un libro magico o qualcosa del genere allora diamo a lui tante noti che lo tengo io azione di vera uscita borsa dell'alchimista usare le scorte da campo per conservare le scorte da campo ah ok qua che c'è dentro ok portachiavi chiave pesante io dovrei vedere una cosa allora e abbiamo ispirazione giusto ok va a allora questo libro molto leggero ok tenta di spingere via un bersaglio tutto il successo dipende dalla tua ok questo è una il cosiddetto ammottune ok 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 ragazzi qua continuiamo l'esplorazione ok tu hai modo di mettere della luce ok 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 ci vogliono i 10 giorni per castarlo ah forse dura 10 turni si fa per 10 turni ma questo mi metto pure da pergamano ok io dovrei avere una candela posso equipaggiarla non diciamo una cosa che la do il mago o che la do il lato non credo non ti credo non ti credo Ok. Is that blood? No, never mind. Non c'è una storia. Non c'è nessuno che ti senti a ascoltare. Oggi non l'ai mai visto. Ok Ehi, ciao, Silent Ma che palle, dannazione Mi dispiace tanto, Silent Ma che chiedi a Twitch se ti fanno recuperare l'acqua Vabbè che in realtà lo sto usando Ti consiglio di cambiare la password e di mettere la cosa in due fattori per evitare che ti succeda di nuovo Ti consiglio di ammettere che tu hai stato una sorpresa E non un imprezzante Torni di ammettere sono meno e molto inoltre per me Inoltre, tu scuvi la mia vita a partire di Nautiloide Come posso fare qualcosa ma di chiedere le chiedere? ... ... ... ... ... Non c'è la tua compagno, ovviamente. Potremmo, potremmo non. Se succederemo, avviamo le nostre le nostre vie. Preparo andare a Bouldersgate. C'è qualcuno che mi chiede. C'è qualcuno che mi devo riuscire. C'è presto possibile. Grazie, e sei certo. E' una cosa delicata. Ce n'è qualcosa per una conversazione light. Ah, un giorno prenderò un break. Oh, come si può essere il Dio che si chiamano qui. Non posso dire che lo riconosco. L'inscrizione è in una lingua non conosciuta. Non puoi andare ancora. Volevo. Non lo sa, non lo sa. Volevo. Volevo. Valevo. Volevo. Volevo boostare il... ...le cose, come si chiama, è la religione della Chierica, ma... ...ma il tirano è andato. ... 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 Sì, 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 sì. Do you think see me? Step by step. The weather can't stay idle. I don't need any attention right now. Got to press on. Ok. Bene, venite a trovarci, boss tordi. Ok. 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 Ti ripeto, ti consiglio di fare la cosa in due passaggi. Ok. 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 Vanno ferro. Ok. Quorum. Cole. Ok. Ok. Vanno ferro. No! Nuori soli. Ah aspetta non può indossare un'armatura Allora non servo un cazzo Punto Servono 10 turni per lanciarle 4 minuti troppo tempo Allora fai una cosa resti in attesa Io vorrei preparare un'azione però non so se il luogo te lo fa fare Vediamo come si muovono questi bastardi Allora tu stai usando Scudo della fede su di me Quindi tu hai la concentrazione attiva Allora Eh lo capisco Ma devi cercare di sbolognartelo Perché altrimenti continuerà a farlo Perché non ti lascerà mai stare all'account Ok allora te pure rimani in attesa Dobbiamo aspettare Dobbiamo aspettare questi stronzi Perché ti hai questo attacco non capisco Ma dove ti arriva È una pergamena Perché prendono da lì Cazzo c'è un'altra entrata Qua non mi pare ci sia un'altra entrata Vedi c'è una cazzo di panca qua Allora voglio rimanere in attesa Voglio sperare che entrino da qua Tu vai un po' più indietro Sempre in furtività Potrei farti evocare Stamano Per rompere i coglioni Non c'è tutto a rimanere il turno Spero che non sfondino da qui Perché se La cosa per me era farli entrare da questa parte Perché così finiscono in mezzo a tutti e due Loro bombardano E li massacriamo Ok speriamo bene Purtroppo non mi posso Non mi posso preparare l'azione O meglio forse magari c'è il modo Però non so come si fa Purtroppo non mi posso preparare l'azione Sorry not this, I've got funky Ok Silence meets sorcery Still breathing, despite everything Grazie a tutti. 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 Vediamo se Aldo si vuole unire a noi, anche se lui però non c'è quasi mai, quindi... Ok, 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 ok. Ho messo in difficoltà, ok, 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 ok. Andate a mettere, ok, 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 ok. Ok, 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 ok no 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 aspetta però andiamo sul single target il bersaglio è bloccato torna il riparo tocca a me adesso are you kidding me nice il bersaglio funerebbe alto attacco e ha doppiato i suoi danni subiti ok non lasciamo niente al caso picchiamolo il più possibile perché questo è un tank dove fai gli più danni che posso anche se ha fatto tossa forse sarebbe meglio equipaggiarsi un'arma un'arma contundente nice torna di qua protegge a lui che è sta merda tiene 23 minchia questi sono forti ok è il mio turno ok che non può ah perché c'è una nebbia merda allontanati da sui nice adesso me la rischio ragazzi ora siamo dentro la nebbia magari non mi becca si si utilizzalo curiamoci devo tankarmi i danni che arriveranno quindi si che non sono più accecato ok non sono più accecato ok bisogna qualche supporto vieni 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 ok ok merda stupidi maghi meno male aw cazzo questo fa male Sì die penis ok ok Il board è setto E' vero se questo è valuto il costo Tu puoi guarire, no, non ho gli slot Neanche ancora ferite minori puoi fare Nope, ok Cazzo, devo spostare il ladro, ho sbagliato a lasciarlo là C'è un modo idiotico di morire Ok Termino a quel tuo turno Eliminiamo questo bastardo Burn, motherfucker Un danno? Che schifo è? Mi deludi, mago No F*** Veramente ragazzi non riusciamo ad amazzare sto scatolo di m***a No ve scappate Sì Hello Duke! Yeah, I remember everything! That's my legacy on YouTube Fucking... Fucking shit, I can't see a fucking crap He's still alive Fucking die, you penis I think they burn The lesson is death Nice Retreat I'm supposed to push my luck again Allora, aspetta un secondo Perché da un lato potrebbe essere un'ottima idea Ma credo che ci sia ancora uno stronzo da queste parti Non posso lasciarlo scappare Però non posso lasciarlo scappare Fanculo me la arrischio Nooo Let's finish this Mec Hohoho! What? Hohoho! Non c'è un po' di più. Codardo di merda No cazzo sbagliato Cioè l'ho ucciso ma ho sbagliato Mi sa che dovrò bomborrasciare questo Che sta scappando come la merda il figlio di puttana Solo che mi preoccupa che ho capito Eh vaffanculo Mi hai preso in un momento brutto Quindi non mi posso muovere per 5 minuti Ok allora non mi muovere Prendo un orologio e aspetto 5 minuti Anch'io ti voglio bene silver Ok Allora Blu Quindi mi posso muovere al 28 Aspettiamo Eh Duke They Silent Banned my one action I cannot move So I have to wait 5 minuti For the next move In the meantime guys We can talk Did you see the new map Duke? Montepiana The devs posted some screenshot of the new map It's the first map for the winter campaign Eh ma l'hai voluto tu Silent Mi hai chiesto di non muovermi Non mi sto muovendo Ok Silent Well I have to respect the fact That my viewers Accumulate all that point So Unfortunately The best one is the blue I had a lot of fun I had a lot of fun With those shorts Especially because Shorts are a good tool Why are you so blue? I remember everything That was That was one of the first time The falling bug Appears in my games In fact Back then I didn't Knew There was such a bug And It was Really funny But One of The Greatest bug I ever had And unfortunately I didn't Stream Or record That game The new short Was about The empty hole I was hunting for him Because the fucker In that game Killed me all the time So I took All the All the beat Where I Tried to chase him And I failed Until the end Because the last bit Of that short Is me That killed The empty hole On the hill I don't know If he knows I think I think He Isn't a streamer Or a YouTuber I tried to Find him On the web But I didn't Find him Maybe He's just A regular Player And I think He knew All the names Of the Of the player Because we are Not so many So I think We all Know each Other I think I had I know This This player But I tend To remember Always The one That Get me Mad In the game Especially The strong One Because For this reason I always Remember The empty hole Because he's One of the Strongest Player In his Onzo Yeah Exactly For the same Reason For the same Reason I remember Other Players Yeah Same To me And And That's The reason Because I did That video Because In the Community Of his Onzo The empty Hole Is Unknown Unknown Names Unknown Name In the Other Community Maybe There Aren't Except For The Pro Player There Aren't Many Good Players Okay We need To Kill This Idiot Immediately Okay I can't Okay So I use Radio Can in Action To In History Un O To 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 Beh Interesting To 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 Non posso sfruttare niente Da fargli cadere in testa questo Non c'è nessun target, so I need to kill this idiot But I don't want to chase him because I need to stay in cover What a... What are the redeems? You mean in Twitch? Or in the game? Sorry, I didn't follow you He's also as good Italian The dub is really on the point There are no errors The channel points are a reward for the viewers You can select a few actions you can do with the points The text is accurate The only thing that is a little bit strange is the main theme, the main song of the Zonzo There are also some words Because I think... I think the one who wrote the song and the one who sing the song are not Italian So I don't know how they translate some parts of the song But there are some bits that I don't get it Because I don't know if the text is wrong or the song is too... I don't know how to say... The sound is too... Too low, so I don't understand some words But it's ok Yeah In Italian it's RINASCEREMO INSIEME I don't know if they use some ancient Italian word Because... Like in English there are words in Italian that are ancient So we don't use it anymore Maybe they use some of this word No, I can't, really I can't Italian is a really difficult language Even I... I'm not... Great in my own language Well... If it wasn't for me Perhaps I... I let Sabaton to wrote... To... To sing... To write the song Because I love Sabaton Fuck you, you penis I know it's my turn And this fucker is using... A cunning manoeuvre He's trying to... He's trying to... To use... And for six to nine Aww fuck I did a... A mistake Okay... I need to kill this... Piece of shit Is this uh... Is out of range Ciao versinzt spero di aver detto correttamente il tuo nome grazie or hello and thank you if you're english we love casting spells yeah the power of fire my warrior is pretty much useless because i i don't think i can do shit but maybe i can i can take some damage to cover my comrade ok you son of a bitch i'm coming for you you penis and okun nice there's not so funny now isn't it what the fuck how dare you you piece of shit no time for a new brooch i'm coming for a new brooch i'm coming for a new brooch i'm coming for you penis that's it that's my favorite rant rant sentence i really really get easily mad in every game to be fair so let me check no no noo i mistake mistakenly and the turn on the wrong possible moment die fucking idiot victory I use my superior intelligence against these idiots bastone ferrato Ficcatolo nel culo for the loot ce l'ho un pignale penso di si e non può combattere contro Mario ok let's go by the way fun fact the gunner which i don't remember the name of the class in this game because there is a gunner class in 5d edition is really 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 strong because he ignores all the resistance the gun can pierce everything in this game not everything but most of the most thing let's say there's a trap here no ok then fuck off amoletto delle voci perdute parlare coi morti now i can talk with the dead oh it's a ritual ma va sull'intelligenza forse è meglio se io lo dò il mag questo tu vai sull'intelligenza quindi no yeah i know here lies the guardian of tombs through knowledge comes atonement here lies the guardian of tombs and i hope the guardian is not a beast because let's let's say i don't trust this uh this tomb non ho molta fiducia in questo affare ma vediamo oh hello oh fuck a vampire no a moom what is this shit uh salve i'm fucked why i do things so so he has spoken and so thou standest before me bright as always what a curious way to awaken now i have a question for thee what is the worth the curiosity nothing Nothing more. Wilt thou answer my question? So I ask again, what is the worth of a single mortal life? Hmm, c'è una pletora di risposte. Allora, this is a philosophical question, so I need time. Da un certo punto di vista ogni vita è infinitamente preziosa e nessun sacrificio è troppo grande per salvarlo, ok? Ma dipende dal sacrificio, perché anche il sacrificio ha il suo prezzo, quindi direi che nessuna vita vale più delle altre, siamo tutti uguali. A morte, è così. Molto bene. Sono soddisfatto. Ci siamo incontri e conosco la mia faccia. Noi, siamo incontri e conosciuti in ogni momento e in ogni momento. Farewell. Farewell, my friend. The fuck are you anyway? E' come, solo. E' come, solo. Sancti che vi ho andato adesso. E' come, solo l'ho e noi. E' come, solo l'ho e lei. E' come, solo l'ho, è un problema. E' come, solo l'ho, è un problema. Ancina che rinchi, e capta da qui. E' come. Ho, ti amo. E' come. Grazie a tutti.